Edurruti, Fulvio Abate, quello che sto per dire e per fare vi sembrerà un delirio, ma ero un po' ganzi in bagno e a un certo punto, osservando un piccolo asciugamani di colore viola, lilla, ho pensato al potere dei colori. Diceva Hugh Klein che la linea è confine, perimetra le cose, mentre il colore è lo spazio assoluto. E allora ho immaginato una cosa illusionistica. Adesso io mostrando dei colori, così pensavo, restituirò l'immagine esatta della Giocondo. Prendiamo un esempio di un quadro che tutti conoscono e che in qualche modo è paradigmatico. Ecco. Dovreste vedere l'immagine della Gioconda in questo modo. Fatemi sapere.